I titoli di oggi. Sportello sociale. Apertura a Belluno. Auronzo di Cadore. Si rafforza il servizio dello SPI CGL. Energia, la nuova povertà continua. Riflessioni sul discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Ci rivediamo tra pochi secondi dopo la pubblicità. Ben ritrovati con l'informazione dello SPI CGL di Belluno. Sportello sociale. Da gennaio è aperto a tutti lo sportello sociale presso la sede dello SPI in Viale Fantuzzi 11 a Belluno. Gli orari sono il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 17. Lo sportello sociale nasce dalla necessità di dare una risposta a quei bisogni spesso inespressi, che rappresentano le urgenze e le esigenze più diffuse fra la popolazione anziana e che molto difficilmente trovano riscontro. Lo sportello sociale dello SPI CGL, attivo da giovedì 18 gennaio 24, consiste in un servizio di informazione e orientamento offerto dal sindacato dei pensionati alle singole persone e alle famiglie in ambito di diritti. L'obiettivo dell'attività infatti è quello di informare il cittadino sui nuovi diritti, su come esercitarli in diversi ambiti. Domiciliarità, quali prestazioni vengono erogate e quali sussidi. Disabilità, diritto all'eliminazione delle barriere architettoniche. Non autosufficienza, assistenza alle domande di invalidità civile. Esenzione dai ticket, accesso ad aiuti economici, fascicolo elettronico. Tramite lo sportello sociale è possibile sapere quali agevolazioni fiscali e tariffarie si ha diritto e come farne richiesta, a quali associazioni e uffici pubblici rivolgersi, qual è l'iter corretto di una pratica da espletare. Inoltre i collaboratori dello SPI possono indirizzare i cittadini ai servizi CGL come Caffe e Inca, sollecitare le istituzioni territoriali, raccogliere richieste ed esigenze che diventeranno vertenze territoriali di negoziazione sociale qualora fossero individuate criticità comuni. Il servizio quindi offre un beneficio alle singole famiglie e a tutta la comunità. Auronzo di Cadore. Si rafforza il servizio dello SPI CGL. Nelle sedi di incontro territoriale si consolida la presenza degli operatori dello SPI CGL per la definizione di tutte le pratiche assistenziali, previdenziali e fiscali. Essere vicino alle persone anziane nei territori distanti dalle zone centrali, difficili da raggiungere vista la poca disponibilità di servizi di trasporto pubblico, è uno degli impegni principali del Sindacato dei pensionati della CGL. Si ampliano infatti gli orari della permanenza della collaboratrice dello SPI presso la sede APS-UP i sogni nel cassetto di via Unione 4 ad Auronzo di Cadore. Per rispondere alle seguenti richieste. Controllo pensioni. Controllo mancata quattordicesima. Invalidità civile. Bonus bollette. Fine mercato tutelato. Diritti inespressi. La maggior disponibilità di tempo favorisce anche lo scambio di opinioni sulle problematiche attuali. Permette di raccogliere molte criticità e richieste. Ad ascoltare i bisogni e a proporre soluzioni ove possibile sarà Loredana Casanova. Gli orari. Martedì 8 e 30, 10 e 30. Piagge. Il malgoverno del patrimonio pubblico. Il 2024 si apre con gli auspici economici più sfavorevoli per le famiglie italiane alle prese con l'inflazione e rincari generalizzati. Ogni famiglia italiana che vive in casa in affitto, che ha figli all'università, che pagano un canone spesso costoso di locazione, sanno purtroppo che ad ogni aumento dell'inflazione il canone inevitabilmente cresce. Purtroppo in Italia gli aumenti del canone non valgono per tutti. Infatti i concessionari delle nostre spiagge demaniali, grazie al governo, quest'anno avranno non solo la proroga delle concessioni balneari per tutto il 2024, ma beneficeranno anche di una amorale riduzione del 4,5% del canone annuale da versare allo Stato, proprietario delle spiagge. Pensiamo ad esempio che per una delle spiagge più costose d'Italia, a fronte di 10 milioni di fatturato, il titolare pagherà quest'anno allo Stato italiano la misera cifra di 18 mila euro, scontata di circa 800 euro. Non importa se l'Italia è sotto esame europeo per la mancanza di gare d'appalto, per l'assegnazione delle licenze, per i gestosi delle spiagge, per i taxisti, per i rivenditori ambulanti. Le lobby e il malgoverno del patrimonio pubblico hanno la meglio anche questa volta. Energia, la nuova povertà continua. Il 2024 si apre all'insegna di forti rincari per i consumatori. Per il gas il governo non ha più mantenuto l'iva al 5% riportandola al 22%. L'abbassamento del prezzo della materia prima del 6,7% non compenserà tale aumento. Perciò ogni famiglia subirà un aggravio di circa 102,15 euro annui sulla bolletta del gas. Ci saranno altresì aumenti per il passaggio al mercato libero, più 11% per le offerte gas a prezzo variabile, più 49% per le offerte gas a prezzo fisso. Il governo poi non ha più rifinanziato il bonus energia per i consumatori che hanno un reddito ISEE compreso fra i 9.000 e i 15.000 euro. Lo sconto fiscale voluto dal governo con le nuove detrazioni IRPEF, 16 euro lordi mensili per redditi fino a 25.000 euro, non può essere la sola e unica risposta contro la povertà energetica. Infatti l'incremento del costo del gas di questo mese di gennaio si è già mangiato la tanto decantata riduzione dell'IRPEF e se si sommano tutti gli altri aumenti dei prezzi e delle tariffe e i tagli alla spesa sociale, le prospettive del nuovo anno sono davvero nere. Le promesse di non abbandonare i cittadini sono un lontano ricordo, la triste realtà è che essi sono lasciati alla deriva. Intanto per meglio districarci nel passaggio al libero mercato del gas, la luce passerà invece il primo luglio, gli sportelli di Feder Consumatori sul territorio e le leghe SPI sono a disposizione degli utenti per qualunque informazione. Saluti fascisti, la vergogna di H. Larenzia. Quella andata in scena il 7 gennaio a Roma davanti all'ex sede dell'MSI sembrava una parata, una rievocazione criminale del fascismo, un vero e proprio evento celebrativo del ventennio più buio della storia italiana. Riuscite a immaginare oggi una scena del genere in una strada, in una piazza di Berlino, centinaia di braccia attese nel saluto fascista, gli estremisti disposti per file militari, il feroce grido nostalgico che squarcia il silenzio della sera e nessuno che interviene perché tutto è regolarmente autorizzato. Provateci, probabilmente la vostra mente opporrà un rifiuto etico a questo ritorno al passato e l'immagine si bloccherà. Servirebbe molto che la Presidente del Consiglio dicesse qualcosa su quelle immagini amorali. Non si può essere tolleranti verso chi fa apologia del fascismo e intolleranti con chi dice viva l'Italia antifascista. Il punto di oggi saranno riflessioni sul discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Tanti sono stati i temi toccati nel tradizionale messaggio di fine anno dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La guerra con la necessaria cultura della pace, l'evasione fiscale dannosa per la comunità, la violenza interminabile sulle donne. L'appello rivolto soprattutto ai giovani alla partecipazione attiva, faticosa ma necessaria ai processi democratici del Paese. Importanti per lo SPI sono stati tutti i temi toccati dal Presidente, in particolare il diritto alla salute, i giovani e gli anziani. Giovani da aiutare perché spesso si sentono fuori posto. Estrani a questo mondo, disorientati verso una realtà che disconosse le loro attese, quando invece una società dinamica come quella attuale, ha sempre più bisogno di loro. Il Presidente, parlando anche di sanità e scuola, ha voluto unire insieme giovani ed anziani. Gli uni e gli altri, ugualmente distanti da alcuni diritti tutelati dalla Costituzione, come nel caso delle cure sanitarie, delle liste d'attesa con tempi troppo lunghi per visite ed esami. Così come il diritto allo studio dei ragazzi, che vanno aiutati a realizzarsi perché incontrano troppi ostacoli a cominciare dai costi di alloggio nelle grandi città universitarie, improponibili per la maggior parte delle famiglie. Sergio Mattarella, con quella sua attenta e precisa modalità di comunicazione, si è soffermato sul diritto degli anziani ad essere rispettati e dice, affermare i diritti significa ascoltare gli anziani, persone, preoccupati di pesare sulle loro famiglie, mentre il sistema assistenziale fatica a dar loro aiuto. Si ha sempre bisogno della saggezza e dell'esperienza e di manifestare rispetto e riconoscenza per le generazioni precedenti, che con il lavoro e l'impegno hanno contribuito alla crescita dell'Italia. Ecco, diciamo che la mancata definizione della legge delega sulla non autosufficienza e i tagli ai trasferimenti ai comuni sono penalizzazioni che si abbattono sulle persone anziane e vediamo pertanto che il rispetto già viene meno da parte del governo. Senza risorse non si possono regare nuovi servizi o peggio mantenere quelli in essere e penso ai servizi di assistenza domiciliare, ai passi a domicilio e al probabile aumento della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti. Le parole del Presidente sono state come al solito un faro nella notte. Perdere la figura così importante del Presidente della Repubblica in nome di un futuro premierato che andrà a stravolgere la Costituzione per dare più potere al Presidente del Consiglio sarebbe davvero una sconfitta per la democrazia. La crisi sociale e democratica che stiamo vivendo può e deve essere affrontata attuando pienamente la nostra Costituzione, non stravolgendone principi e ordinamento né abbandonando lo spirito con cui i padri costituenti hanno fondato la Repubblica antifascista nata dalla Resistenza e fondata sul lavoro. Abbiamo sempre cercato di parlare ai lavoratori come degli uomini, di parlare al loro cervello, al loro cuore, alla loro coscienza. In questo modo il sindacato è diventato scuola di giustizia ma anche di democrazia, di libertà. Ha contribuito a elevare le vertù civili dei lavoratori del popolo. Questa è una frase di Luciano Lama, è una frase che ha 38 anni, del 1986, mi è sempre piaciuta molto. Il sindacato nel corso degli anni è cambiato, il lavoro è cambiato, i lavoratori sono cambiati, ma il bisogno di sindacato, il bisogno di essere insieme per i propri diritti, questo resta e anzi in questi anni di diritti che ci vengono negati c'è sempre di più. Questo appuntamento quindicinale, 108 secondi come 108 sono gli anni della CGL, vorremmo proporvi quelli che sono temi di attualità, quelli che sono i temi che possono interessare i lavoratori, i cittadini, i pensionati della provincia di Belluno. Questa settimana vorrei parlarvi della legge su fine vita e di quello che è successo naturalmente alla Regione Veneto pochi giorni fa. La legge su fine vita in questo Paese ne avremmo bisogno da moltissimo tempo. In Regione Veneto, grazie all'associazione Luca Coscioni, sono state raccolte 9.000 firme per una legge di iniziativa popolare che non faceva altro che riprendere quanto già deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza 2.42 del 2019, ovvero l'ammissibilità del trattamento sul sicilio medicalmente assistito, ovvero delle persone che sarebbero comunque condannate a morire possono rivolgersi al Servizio Sanitario Nazionale e la legge Veneta chiedeva di avere una risposta entro 27 giorni, perché nella sentenza della Corte Costituzionale non c'era un tempo in cui il Servizio Sanitario Nazionale doveva rispondere. La legge come sapete non è passata e allora io chiedo, mi chiedo, ma chiedo anche a quei signori, a quelle signore che non l'hanno fatta passare, qual è il principio superiore, quale motivo c'è per cui mettendosi nei panni anche degli altri, mettendosi nelle scarpe degli altri, si può pensare che un proprio congiunto, un proprio familiare, un figlio, un padre debba soffrire fino all'ultimo minuto. Bisogna sentire l'ultimo grido di dolore, l'ultimo rantolo della persona cara invece che poter scegliere di avere qualche sofferenza in meno in maniera del tutto legittima e del tutto legale. Mina Welby dice che il suicidio medicalmente assistito è una questione di amore. Io credo che abbia ragione. Termina qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguito. L'appuntamento come al solito è fra 15 giorni con l'informazione dello SPICGL di Belluno. Grazie per averci seguito. Grazie.